Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono di nuovo in viaggio, sono a Rijeka, ovvero a Fiume in Croazia, sono arrivata ieri sera ma ero un po' stanca quindi non ho registrato nulla del viaggio, oggi è il primo giorno ma purtroppo piove almeno per ora, spero che smetta presto e con il fatto che piove ho deciso di visitare qualche museo, mi fermo qui altrimenti non ce la faccio a salire, ce ne sono tre che sono tra i più importanti che sono il Museo Navale, il Museo di Storia Naturale e il Museo Civico di Fiume, adesso non so in che ordine li farò, comunque sia ve li farò vedere tutti probabilmente, soprattutto se non smette di piovere. Ciao a tutti! Come vedete è finita la pioggia, è uscito un po' di sole quindi è il caso di farvi vedere un pochino il centro della città. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Secondo giorno qui a Fiume. Oggi come vedete il tempo è molto migliore rispetto a ieri perlomeno e quindi si sale in collina. Ho già fatto un pezzettino di gravinata come vedete, sono tipo 500 scalini per andare su e 500 ovviamente anche per tornare giù e si va al castello di Trusat, non so che si dica così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi è giornata di chiese quindi ne vedrò alcune, giusto così tanto per passare un po' di tempo visto che ho esaurito tutto il resto. Quindi direi andiamo. Grazie a tutti. Bene ragazzi, il video dei miei tre giorni qui a Fiume si conclude qui. Spero che lo abbiate trovato utile, nel caso mettete un like e magari condividetelo con i vostri amici che programmano di venire qui a Fiume per un weekend o qualcosina in più. Vi ricordo che con domani per me, prossima settimana per voi, partirà una nuova avventura perché mi sposto da Fiume a Zagabria, quindi ci sarà un altro video per le mie vacanze estive. E quindi non perdetevelo e iscrivetevi al canale per seguirmi. Se volete invece seguirmi in diretta nelle cose che faccio, vi lascio i link in descrizione di tutti i miei social in cui appunto potete rimanere aggiornati in maniera diretta su quello che combino, soprattutto Instagram. Quindi noi ci vediamo al prossimo video che sarà da Zagabria e vi lascio come al solito con un Have a Nice Life.